Torna l'allegria, Santi Cosma e Damiano, col Carnevale Campagnolo 2012, uno dei più grandi del centro Italia, tre giorni di festa, di allegoria, di danza, di musica e tanto divertimento. Un appuntamento a cui non si può mancare, sfilata di carri allegorici, parata di gruppi coreografici e per i bon gustai tanti prodotti tipici locali. 12, 19 e 21 febbraio, in località Campomaggiore, a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, Carnevale Campagnolo 2012, un evento straordinario, tutto da vivere.